Roma, vigna e saluti, in la trattativa con il Bournemouth. Roma la sessione invernale di calciomercato è entrata nel rush finale e in casa Roma tiene banco la vicenda a Zegniolo. Con l'apertura del Milan al fantasista che ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024, e si è praticamente messo da solo nella lista dei partenti. Shands in Premier League una lista in cui figurano però già altri giallorossi. Uno di questi è Matias Vigna, appena 7 presenze e 298 giocati in questa stagione tra campionato ed Europa League, che sta facendo le valigie. Pronto a volare verso la Premier League. In chiusura è infatti l'operazione che porterà il 25enne terzino uruguaiano al Bournemouth. Pronto a prenderlo in prestito oneroso, un milione il costo, con diritto di riscatto.